Abbiamo la consapevolezza che le storie nazionali sono molto diverse, ma che stiamo tutti dalla stessa parte e che nel mondo globalizzato le forze progressiste, che siano socialisti, che siano democratiche, che siano liberali, devono stare dalla stessa parte. Le democrazie sono comunque da sole una garanzia di stabilità. Chi dice l'opposto sbaglia? E sappiamo perfettamente che arriva il momento in cui bisogna scegliere tra interessi e valori. Non si può essere esitanti e purtroppo le esitazioni del nostro Presidente del Consiglio derivano dalle cose fatte nei mesi scorsi.